I prossimi anni saranno veramente cruciali perché si apre un periodo di grandissime trasformazioni. Sono in arrivo volumi di risorse che non si vedevano ricadere sul territorio dal dopoguerra. Ci sono alcune questioni quindi che andranno affrontate il prima possibile già domani mattina. La forbice tra domanda pubblica e struttura dell'offerta che è un nodo da sciogliere avendo ben presenti le conseguenze della distruzione del tessuto imprenditoriale locale. Il frazionamento in lotti che deve essere una modalità operativa delle stazioni appaltanti. I meccanismi premiali per chi aggrega PMI in linea con i dettami comunitari per la creazione di posti di lavoro che devono entrare nei bandi.